Avshin Varjavandi con Antidoti. Da dove nasce? Antidoti nasce anzitutto dalle sensazioni che ci ha provocato la condizione mondiale che abbiamo vissuto durante la pandemia, che ha messo in seria discussione l'identità di tutti gli artisti del mondo, non da un punto di vista di istinto, ma da un punto di vista di riconoscimento, di come noi gli artisti siamo visti in un certo senso dalla terra e siccome la stessa sensazione era condivisa dai danzatori, ho deciso di dedicare questo spettacolo a quelle che erano state le riflessioni che lo stare chiusi in casa ci aveva costretti a fare. Questi sei giovanissimi danzatori, per una riflessione che arriva da un passato non troppo lontano, che ci sta quindi guidando verso un futuro fatto di una continuità. Sì, sicuramente è uno spettacolo in cui ci si pone delle domande e le cui risposte sono delle risposte estremamente positive, quindi in realtà è uno spettacolo che afferma in un certo senso la propria identità. L'ultimo brano in qualche maniera poeticizza il messaggio dello spettacolo e che nonostante le tempeste, le burrasche, in qualche maniera non ci si fa male, ma si esce più forti. Un inno, è proprio un inno? Sì, direi di sì. Quindi grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.